L'Argentina ha mandato alla Roma Peretti e Pefaola, che ha sdoganato anche i baffi. Acqua pendente, sede degli allenamenti. A Pefaola hanno scucito un baffo. Scherzi del sonno pesante. Il barbiere ha messo le cose a posto. Forse le ocche sperano di trovare un ignoto becchime nella valigia del massaggiatore. Senchi l'allenatore dà il buon esempio. Valle, il terzo argentino, si è tagliato i baffi in barba ai compagni. Il centro sostegno Riva, Fusco e il mediano Curti, altri nuovi acquisti romani. Ed ora rifacciamo conoscenza col pallone. Risorti si sbizzarisce in una spaccata che però è gol. Amadei lavora di testa, Valle improvvisa trovate da giocoliere d'alta scuola. Pefaola si difende, ma Andreoli esagera. Si ricosta bene tagliargli un baffo, oh ma così gli stacchi la testa. Grazie. Grazie a tutti.